Roberto Carlos Sosa una vita passata a giocare a calcio adesso ti trovi dall'altra parte del campo in panchina però come nasce il Sosa calciatore, gli esordi, i primi tocchi col pallone? Beh insomma, diciamo che in Argentina un po' come a Napoli si vive a giocare a calcio per strada quindi non è che uno decide di fare questo ti porta la stessa vita a calciare un pallone insieme agli amici poi mano a mano che cresci insieme a un settore giovanile con il sogno sempre di arrivare a giocare nei massimi livelli cosa che grazie a Dio mi è successo però è tutto partendo sempre dai sogni che avevo da piccolo Quali erano i primi idoli del Sosa Bambino? Beh, visto il mio ruolo io tifavo molto per Ramon Diaz che poi giocò anche da queste parti ma era un attaccante totalmente diverso alle mie caratteristiche perché lui era un altro tipo di giocatore giocava nel River e quindi guardavo molto lui è chiaro che per noi argentini anche Diego è sempre rappresentato più che un idolo un punto di riferimento perché cercare di copiare quello che faceva lui era impossibile quindi eventualmente seguire cosa faceva lui rappresentava una idolatria diciamo così Nel 1998 la svolta, l'approdo dal gimnasia all'Udinese come nacque quella trattativa? Come decidesti di varcare l'oceano e di partire dall'Italia e dall'Udinese? Sì, un po' come ti ho detto all'inizio fa parte dei sogni io sognavo con giocare in prima divisione in Argentina e poter anche vincere la classifica ai cagnonieri cosa che ho fatto e poi venire a giocare in Italia era anche un sogno grazie a Pierpaolo Marino che anche oggi è quello che mi permette di fare l'allenatore qua a Sorrento insieme al suo figlio Ernesto è stato lui andare a vedermi appunto nel gimnasio Sgrimo alla Plata a portarmi a Udine e lì nasce la mia carriera in Italia ma nasce soprattutto questo rapporto oggi di amicizia con Pierpaolo Marino In questo rapporto quasi fraterno lo possiamo dire avete visto tutta la tua carriera si è sviluppata attorno a Pierpaolo Marino da Udinese, Udinese, Napoli e verso Sorrento che persona è Pierpaolo Marino e suo figlio Ernesto che è il tuo direttore sportivo qui a Sorrento? Sì, non sarei obiettivo perché parlare degli amici non è sempre molto bello perché sarei da parte io oggi lo chiamo Pierpaolo il direttore quando era il direttore Marino forse era a volte troppo o direttore, oggi lo chiamo Pierpaolo così come chiamo Ernesto anche se lui fa questo ruolo importante direttore qua al Sorrento perché c'è stato sempre un guardarci in faccia e portare le cose avanti senza creare false aspettative lui tutte le cose che mi ha sempre detto me le ha sempre mantenute infatti lui è stato quello che mi ha portato a Udinese quello che poi ha deciso quando ho dovuto andare a giocare ad Ascoli a Messina quando sono dovuto tornare in Argentina e poi l'esperienza a Napoli che poi è stata meravigliosa è stato lui a convincermi anche se non ci ha voluto molto però è stato lui a decidere che io dovevo essere il primo ad arrivare a Napoli raccontaci un po' il tuo primo giorno di Napoli a Pestum dove non c'erano i palloni e Prende si partiva da zero dopo un fallimento sì è stata un'esperienza indimenticabile perché è difficile da credere io arrivai a Napoli mi ricordo la sera in albergo con lo staff tecnico di Ventura eravamo solo noi, ero solo io il giorno dopo dovevamo andare a Pestum e iniziare allenamenti con Sansa Carmando che era stato il primo ad arrivare anche lui nella parte medica diciamo così c'era Monte Vino, Monte Santo e Sposito questo ragazzo che era rimasto alle giovanili quindi in quattro abbiamo fatto un lavoro fisico ma non aveva senso poi mi ricordo che Aldo aveva un pallone sgonfio dell'Alasio non so un regalo di un amico nella macchina e ci siamo messi a paleggiare ma praticamente non aveva niente senso perché non sembrava una squadra di calcio non sembrava che oggi il Napoli potesse lottare come eventualmente vuole fare per i primi posti quindi tutto è nato lì con molta sofferenza ma dopo la sofferenza la gioia è sempre più grande Ti ricordo il primo gol inamichevole Cavesse-Napoli, Toledo, Cross che ricordo hai di quel momento? Sì me lo ricordo perché c'era il direttore sportivo della Cavesse era Nicola Dionisio che oggi fa parte del gruppo societario del Sorrento quindi anche lui si ricorda di questo gol è una delle prime cose che mi ha detto ma era tutto per aria non era molto concreto tutto perché iniziavamo da poco ma nonostante tutte le difficoltà abbiamo fatto una stagione importante arrivando alla finale con l'Avelino però quei momenti erano belli diciamo così perché c'era molta emozione molta adrenalina non si sapeva come andava a finire tutto quindi viviamo la giornata cioè oggi ci alleniamo qua domani non so dove ci alleniamo quindi io penso che questa è stata la vera forza di quel gruppo Viste andiamo alla prima giornata di campionato Napoli-Cittadella 50.000 spettatori tu eri nel gruppo uno dei più esperti si può dire di quel Napoli qualche calciatore ma ero meno esperto era un po' timoroso nel scendere in campo vedendo tutte quelle persone le sensazioni dello spogliatoio per il debutto non era facile? Ma è bellissimo tornare a quella giornata 50.000 secondo me ci stavano più di 70.000 persone in quello stadio c'era una bolgia che ci travolgeva era un'onda che ci portava e ci ha portato mi ricordo che noi stavamo vincendo 3 a 1 se non mi sbaglio poi è chiaro che fisicamente eravamo a pezzi non riuscivamo neanche a correre è finita 3 a 3 se non mi sbaglio quella partita ma quei tre gol ce l'hanno fatto fare i tifosi io non mi ricordo neanche chi ha segnato forse Toledo sì il difensore Sabino è ignofo però secondo me quei gol li hanno fatti i tifosi la onda, il durto, l'esplosione di quello stadio è una cosa che io invito a chiunque a potersi godere purtroppo i tifosi non riuscirono a portarvi in Serie B già al primo anno con la finale playoff per Saravellino cosa accade nel post-gara quando si infranse il sogno promozione? c'è chi dice che Reia comunicò alla squadra di voler andare via e poi fu convinto a rimanere da De Laurentiis cosa accadde? sì un po' di tutto perché comunque c'era delusione perché era una finale e si poteva comunque portare a casa è chiaro che l'Avellino era molto più strutturato di noi molto più organizzato quindi aveva un vantaggio importante ma sul campo ce la siamo giocata alla grande sì sembrava che tutto potesse rompersi invece quando tu hai un direttore sportivo come Pierpaolo è chiaro che ha la forza per poter mantenere la base dei giocatori importanti di quell'anno Calaiò, Mè, Gatti, Montervino stesso Iezzo, Gianello, Grava poi arriveranno altri come Vogliacino, Amodio si è fatto un mercato importante e quindi ripeto quando tu hai un dirigente dietro così le cose secondo me diventano facili l'anno successivo a questa delusione del playoff ci fu la promozione del Napoli in Serie B fu una vera e propria cavalcata di questa squadra noi ricordiamo soprattutto la partita Napoli-Frosinone dove tu indossassi per l'ultima volta la numero 10 di Diego e segnassi anche un bel gol ti volevo cedere le tue sensazioni a quel gol e poi soprattutto una maglia che è diventata storica cioè quella di chiama, non dimentica dove hai preso lo spunto chiedata magari questo consiglio di metterla sì diciamo che quell'anno il secondo anno in C è stato praticamente facile perché abbiamo vinto il campionato con 6-7 giornate di anticipo giocando bene, giocando un bel calcio e proiettandoci all'anno dopo della Serie B il ricordo di questo numero rimarrà per sempre nel mio cuore perché poi tra l'altro è stata l'unica maglia che io mi sono autografato e dedicato a me a me stesso di solito firmo il regalo alle maglie quella maglia lì l'ho incorniciata ce l'ho ce l'ho in Argentina e rimarrà un ricordo secondo me per tutta la vita perché tra vent'anni se ci incontriamo e ricordiamo questo fatto l'ultimo che ha indossato quel numero sono stato io quindi questo non me lo può levare nessuno ma fu un'emozione incredibile io pianse perché è un numero che ti trasmette molte cose un numero che insieme alla maglia del Napoli i colori del Napoli trasmette cose che soltanto chi lo indossa può riuscire a capire farei fatica a spiegare cosa sentivo in quel momento è stata un'emozione che mi portò fino alle lacrime poi come detto ho fatto anche un bel gol tutto prodotto da quel numero della magia di quel numero di quei colori non perché l'abbia fatto io Passando invece al campionato di Serie B molti ricordano la gara contro il Verona fuori casa 23 a 1 oppure il gol di Ivano Trotta a Frosinone oppure la gara contro la Juventus quando cambiaste modulo il Napoli cominciò a ingranare quale fu il momento più importante adesso ci sono questi tre ce n'è qualcun altro magari sono i tre punti salienti di quella stagione sì sono tre partiti importanti ma io aggiungerei un'altra a Bologna che vincevamo 3 a 0 e poi la partita è finita 3 a 2 se ne hanno andati anche lì migliaia di tifosi portammo a casa un risultato importantissimo mi ricordo anche la partita a Brescia con un gol di Pia questa di Frosinone sì io avevo fatto il pareggio trotta al 2 a 1 al 93 94 non mi ricordo bene ma la partita più importante più bella è sicuramente quella a Genova quella che ci permesse praticamente andare insieme in Serie A dopo tanta sofferenza quindi sono state tante partite importanti ma si devo dire una alla fine quella di Genova quel pareggio che ci portò a Braccetto in Serie A sarà anche quello indimenticabile proprio ricordando la partita col Genova mister come avete vissuto un po' la vigilia di quella partita un po' tutta la settimana e poi soprattutto quel momento in cui eravrebbe venuta al pareggio la Triestina a Piacenza come hai vissuto magari quegli attimi c'era magari qualcuno dalla panchina che vi diceva la partita è finita e poi soprattutto il momento più bello cioè vedere te e Montervino sulla traversa al Marassi a festeggiare con i tifosi che quella sia l'immagine più bella di questo Napoli sì la vigilia è stata molto tranquilla perché eravamo consapevoli di tutto lo sforzo che avevamo fatto negli anni precedenti in Serie C in quell'anno in Serie B e noi eravamo arrivati secondi era il Genoa eventualmente che aveva la responsabilità di vincere e mi ricordo che avevamo fatto anche una grande partita lì io ho preso una traversa ci sono state altre occasioni e poi sono stati gli ultimi dieci minuti che non si è più giocato perché si sapeva il risultato appunto di Piacenza e quindi è stato sono stati dieci minuti di gioia di pianto vedere Paolo Cannavaro piangere dentro il campo sono una delle immagini una delle fotografie che io mi porterò sempre nella mia vita al di là del calciatore perché sì hai nominato Montervino che anche lui è stato importante Fabio Faiogati molti giocatori di quegli anni ma vedere il mio capitano piangere dentro l'aria quando mancavano gli ultimi minuti è un ricordo che io lo terrò sempre nel mio cuore quella festa può essere paragonata quasi a uno scudetto nel senso il Napoli era fallito pochi anni prima la rinascita vera il ritorno nel calcio che conta del Napoli anche una vittoria per dei tifosi e della città sì della città infatti molti tifosi sono venuti a festeggiare a Capodichino quando siamo arrivati per arrivare in centro ci avevamo messo 5-6 ore perché era una folla una massa che si muoveva attorno a questo Pullman per festeggiare questo ritorno dove Napoli come città Napoli come colori Napoli come squadra merita merita assolutamente di essere sono stati anni che il Napoli è stato nell'inferno in un momento brutto della sua storia e io personalmente averne fatto parte di poter partecipare a questa cavalcata sicuramente è una cosa che mi riempie di orgoglio quindi i tifosi del Napoli dicono che lì si sono visti i veri tifosi del Napoli nella sofferenza nel stare vicino alla squadra nel fare queste trasferte lontane e quindi è un ricordo che dovrebbe servire dovrebbe servire anche nel Napoli di oggi per portare assolutamente più attaccamento alla maglia respirare questi colori respirare la città poter parlare con questi tifosi è una cosa che non tutti hanno l'opportunità di farlo per chiudere questa prima parte dell'intervista in una sola parola come definiresti la tua avventura a Napoli tutte le emozioni e le avventure che hai vissuto con una sola parola è difficile io dico che è stata una grande storia d'amore è stato un rapporto di grande passione che ancora vivo perché vivo a Napoli e niente è quello amore amore penso che la parola più importante sia quella che è